In questa puntata di Unicam News fervono i lavori per il nuovo studentato all'imprenditore Cucinelli, l'attestato di benemerenza e di la sigillo di Ateneo. Grande successo per la settima edizione dello spettacolo TU Talent Unicam, convegno ad Unicam su non profit e economia civile. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Unicam News, questi titoli, ma iniziamo subito con il primo servizio. Proseguono celermente i lavori di sbancamento nel terreno, nei pressi del campus universitario dove sorgerà il nuovo studentato donato ad Unicam dalle province autonome di Trento e Bolzano che ospiterà oltre 400 studenti. Parte dei lavori di preparazione sono resi possibili anche grazie alle donazioni che l'Ateneo sta ricevendo a sostegno del progetto Il Futuro Non Crolla. Abbiamo incontrato il Rettore Corradini. Come vedete alle mie spalle è un cantiere molto importante, un cantiere che ci fa svegliare con grandissima speranza tutte le mattine e oramai da qualche mese. I lavori stanno procedendo in maniera molto molto veloce. Si tratta dell'area dove andremo a costruire il nuovo studentato, quello che vi ho già annunciato in varie occasioni e donato dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Saranno 20 palazzine con appartamenti e camere doppie, bagno in camera e cucina per ogni appartamento e quindi come dire una struttura molto bella ed accogliente per le nostre studentesse e i nostri studenti. Naturalmente sto parlando di numeri piuttosto importanti, 400 studentesse e studenti che si collegheranno al campus dove siamo ora attraverso una zona verde dove i nostri botanici ne stanno già strutturando la piantumazione e l'area verde per stare tutti insieme. L'area sarà a disposizione della provincia autonoma di Trento e Bolzano già dalla fine di questo mese e la provincia autonoma di Trento e Bolzano stanno ovviamente lavorando per il posizionamento degli edifici a brevissimo e quindi come dire stiamo procedendo in maniera importante e veloce, come promesso. I lavori sono a carico, questi lavori di sistemazione del terreno sono a carico dell'Università di Camerino, questa per me è una grandissima eccellente occasione per tutti quanti hanno contribuito perché stiamo usando i fondi che abbiamo raccolto in questi ultimi mesi attraverso la campagna di vendita della maglietta Il futuro non crolla ed altre contribuzioni autonome. Una parte importante per il quale ancora vi ringrazio, sto parlando di 206 mila euro e questa è anche l'occasione per me per dire continuate a comprare tante magliette perché con tante donazioni come state facendo noi andremo in maniera ancora più veloce alla sistemazione del terreno. Stiamo già lavorando in altre aree, i lavori sono iniziati, altri cantieri sono in corso, in particolare i due edifici che ospiteranno quattro nuove aule sempre per il nuovo anno accademico e l'area per l'amministrazione. Anche in quel caso lì useremo altri tipi di donazione e quindi uno vorrei ancora una volta ringraziarvi per quanto avete fatto fino ad oggi, due chiedervi di continuare a comprare tante magliette a donare perché con i vostri contributi noi andremo ancora in maniera più veloce ai servizi ai nostri studenti, tre farvi vedere dove dove sono i vostri soldi. Ecco i vostri soldi ora stanno lavorando in questo nostro cantiere e in un altro che abbiamo già iniziato in un'area poco distante da qui. Grazie ancora a tutti. Il rettore Unicam Flavio Corradini ha consegnato nei giorni scorsi a Brunello Cucinelli, imprenditori lungimirante che ha sempre rispettato e riconosciuto la dignità del lavoro dei suoi collaboratori e dipendenti sapendone valorizzare impegno, creatività e idee, il sigillo di Ateneo e l'attestato di benemerenza per l'impegno e la dedizione profusi per lo sviluppo del nostro paese. Il noto imprenditore Umbro è stato in Ateneo per un incontro sulla bellezza della qualità. Io credo che noi dobbiamo, abbiamo bisogno di essere umani per bene, abbiamo bisogno di gente che ritrova l'amore per i propri luoghi, la custodia. Vede, l'altro giorno ero a Roma e discutevamo, però i romani non stanno eseguendo quello che dicevano i greci se il portone di casa tua sarà pulito, la tua città sarà pulita. Abbiamo bisogno di lasciarti una città più bella di come l'abbiamo avuta in eredità cosa che secondo me stanno facendo i milanesi, quindi è un lavoro di ognuno di noi. Quindi non abbiamo bisogno di chissà quali geni, ma abbiamo bisogno di persone per bene, di rispetto, di dignità, di bellezza, di ascoltare il genius loci, di non arrivare lì per fare una cosa magari estremamente, non voglio dire moderna, ma contemporanea, non rispettiamo il genius loci e questo altera i nostri luoghi. Intanto un esempio, Brunello Cucinelli è un esempio per i nostri imprenditori, per tutti i sistemi produttivi del nostro paese e del mondo. I ragazzi hanno bisogno di esempi, di importanti ispirazioni. Ecco, un imprenditore e una persona come Cucinelli in questo momento rappresenta un esempio molto importante perché non solo è un grande imprenditore, ma è la modalità con cui Cucinelli fa impresa che interessa, l'attenzione al lavoro, ai propri collaboratori, alla etica. Allora siamo in una università come tutte le università del mondo, queste hanno un ruolo importante, hanno un ruolo di formare, di fare ricerca e i nostri giovani vengono per diventare i futuri dirigenti del nostro paese e noi quello che pretendiamo è che si faccia e si svolga questa professione con grandissima responsabilità perché una volta fuori dall'università le donne e gli uomini che abbiamo formato devono andare con forza ad innestarsi nei sistemi produttivi, nelle nostre imprese, in famiglia, per creare una società un pochino più giusta, un po' una società civile, una società eticamente più coerente, una società che ricerca il bello e la bellezza tutti i giorni. Accompagnato dal rettore Corradini e dal pro-rettore vicario Claudio Pettinari, Cucinelli ha prima visitato i laboratori Unicam, luoghi dove viene svolta la ricerca di eccellenza dell'Ateneo, poi si è spostato al campus universitario dove si è tenuto l'incontro aperto dall'intervento del rettore sulla bellezza di lavorare con il futuro per il futuro, mentre il professor Pettinari è intervenuto sulla dignità morale ed economica dell'essere umano. La bellezza della ricerca a servizio di tutti è stato invece il tema della testimonianza di Aurelio Serrao dello spin-off Unicam BioVecBlock. La lezione di Brunello Cucinelli è stata preceduta dalla laudazio del professor Giuseppe Ciorra, docente Unicam della Scuola di Architettura e Design Vittoria e senior curator Maxi Architettura. Serata speciale, quella dello scorso 24 maggio per gli studenti dell'Università di Camerino. Il Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo ha organizzato infatti la settima edizione del Talent Show riservato agli studenti universitari TU, acronimo di Talent Unicam. Sul palco dell'auditorium Benedetto XIII a Camerino sono stati 40 i partecipanti che si sono esibiti sia come solisti che in gruppo con brillanti performance di canto, danza, recitazione e multimedialità. Studenti e anche i presentatori, Joseph Cobina, Samson Duncan, iscritto al corso di Biotecnologie e Flavia Albertini, laureata unica, medore iscritta al Master in Nutrizione Nutraceutica e Dietetica Applicata che si sono cimentati egregiamente in questo ruolo. Vincitori della serata, grazie ai voti della giuria sommati a quelli del pubblico, il gruppo dei ragazzi africani Voices of Africa che hanno eseguito canti gospel e tradizionali africani. Presente in platea anche il rettore Flavio Corradini, soddisfatto per il successo della manifestazione, mentre il prorettore vicario Claudio Pettinari era presidente della giuria. Il non profit e l'economia civile, inclusione sociale, welfare society e opportunità imprenditoriali è stato il tema del convegno tenutosi nei giorni scorsi a Camerino, promosso dall'Università di Camerino in collaborazione con il Cortile di Edi e il Centro Studi Antonio Genovesi di Castiglione dei Genovesi al quale hanno partecipato anche numerosi studenti delle scuole superiori, oltre che studenti dell'Ateneo. L'interessante e articolato argomento del convegno è rappresentato un'importante occasione per riflettere sui temi sempre più vicini alle esigenze del nostro territorio. Rappresentanti della politica del terzo settore, professionisti e studiosi di alto livello, tra cui il professor Stefano Zamagni e l'onorevole Mauro Del Barba, si sono alternati per trattare, dal loro punto di vista, le tematiche legate al terzo settore, alla rinascita di una nuova imprenditoria sociale. Sono note ormai le opportunità che procura l'imprenditoria sociale come risposta alla globalizzazione e dell'austerity dovuta al rispetto dei patti con l'Europa. I giovani hanno bisogno di un nuovo futuro e di vedere valorizzate le loro idee imprenditoriali e il sociale si è dimostrato in questo senso un ambito di crescita fondamentale. E con questo è tutto. Vi ricordo che tutte le informazioni sull'Università di Camerino le potete trovare sul sito www.unicam.it L'appuntamento con Unicam News torna la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie per la visione!